Terminato il mese di agosto è valicato il primo weekend di settembre e tempo per albergatori e ristoratori di tirare le somme e fare un bilancio su affluenza e profitto generati dalla stagione estiva. Ad approcciare una valutazione in merito è il presidente di Federalberghi Fabrizio Oliva. Il bilancio stagionale dobbiamo farlo sotto due punti di vista, quello economico e quello delle presenze. Per quello che riguarda il bilancio delle presenze confermo ovviamente per la media, per la generalità degli alberghi ovviamente nella generalità ci sta anche che qualcuno ha fatto presenze pari all'anno scorso o di più e qualcuno ne ha fatto di meno. Però direi che praticamente non possiamo scostarci da una valutazione che va da una perdita di presenze intorno al 20%. Adesso aspetteremo anche i dati statistici della regione ma più o meno a questo orientamento. Ma l'altro dato preoccupante è che chi non ha fatto praticamente un adeguamento prezzi adeguato quindi faccio la ripetizione per rimarcare il concetto. Oggi siamo al 6 di settembre, arrivano le fatture d'agosto che è il mese più pesante. L'aumento dei prezzi soprattutto degli elementari è stato notevole e quindi al di là delle presenze c'è anche un problema di un aspetto economico che è fondamentale per la vita di un'azienda. E quindi credo che molti alberghi quest'anno si troveranno in difficoltà sia per il caldo delle presenze sia per l'aumento dei prezzi. Anche oggi su tutti i giornali ci sono articoli sul turismo e soprattutto sul concetto di come si va avanti da agosto in poi. Per portare la gente nel periodo fuori settembre, quindi ottobre, novembre, dicembre, bisogna fare gli eventi. L'esempio classico sono le iniziative che fanno le prologo a novembre e dicembre che in presenza di eventi abbiamo presenze turistiche. Nell'inverno, il mese, il fine novembre e dicembre sono diventati i mesi più profiqui per gli alberghi annuali perché in quel periodo ci sono aperti solo gli alberghi annuali. In assenza di eventi le frasi fatte non servono a nulla. Quindi anche i politici, anche qualche collega albergatura, basta con questi annuncismi. Bisogna che ci sia sinergia tra ente pubblico che investe e si confronti con la categoria su eventi da inventare a questo punto. Pesaro, capitale italiana della cultura, con che sguardo vi orientate? A quel momento c'è ottimismo oppure pessimismo? Rispetto a Pesaro 2024 c'è ottimismo, però anche qui c'è una questione molto importante che il comune si deve sbrigare a emettere praticamente il programma. Dico a emettere perché oggi siamo anche qui, parliamo molto, facciamo stasera il festival della pizza, cerchiamo di creare delle coreografie, ma in sostanza ancora non c'è nulla. Ora c'è un impegno del comune che prima del TTG, che è la fiera più importante del turismo a Rimini, e il comune in teoria dovrebbe presentarci il programma degli eventi perché io oltre all'abbergatore sono anche turo peretri. Io non so se al 20 di dicembre o il 10 di gennaio l'iniziativa è sul comune di Cagli o sul comune di Carpegna, visto che Pesaro 2024 non è solo un evento che si celebrerà su Pesaro ma su tutti i comuni della provincia. Quindi è necessario anche qui essere concreti, precisi e puntuali. Non possiamo fare come con tanti lavori pubblici, esempio il palazzetto dello sport, che ci diamo degli obiettivi e poi triplichiamo i tempi.